...diparela nazionale, però è un'unica innesco, considerato il più grande a sua età Romeo in tutti i tempi. Infatti, il 15 gennaio, la sua data di nascita è stata dichiarata sul Consiglio Nazionale della Cultura Romina. Con questo che sono rimasta attenzionare, siamo tutti i tede della delegazione romina, siamo grati dell'interessamento mostrato per la nostra comunità, per la nostra cultura. Non so quanti voi presenti abbiano avuto l'occasione di conoscere, di leggere questi istituzioni, perché traduzioni si sono fatte già a partire dal 1906, o per intero o per antologia degli istituzioni di domenica, classici e contemporanei. Io credo che chi sta adeguando per la prima volta a una cultura si debba cominciare per il classico, un po' come si è iniziato il percorso scolastico di un'interessamento. Quello che vi proponiamo a morire oggi è di avvicinare per le radici della nostra cultura, per le quali si è colonna la nostra spiritualità. Altrimenti, i discorsi, per farmi scopo a queste lezioni di nostro coraggio, daremo solo discorso, un'interessamento alla nostra cultura. Saremo contenti se anche uno solo di voi si sentissero invogliati dopo il nostro incontro a cercare le quali i piedi nostri, delle più lezioni, e scoprire in esse quel tempo di felicità, di pura bellezza e di più lezioni. Grazie a tutti.